questa mattina facevo piacevolmente quattro chiacchiere al telefono con un collega a un certo punto gli ho detto che dovevo lasciarlo perché dovevo andare da un'azienda che era stata vittima di un piccolo attacco informatico il collega mi ha chiesto di che cosa si trattasse gli ho spiegato che si trattava di un cash poisoning e quasi insieme in coro a quel punto abbiamo detto eh sì bisogna proprio fare spesso un flash del dns e allora a quel punto ho pensato a te e al fatto che non ti ho mai spiegato come fare questa operazione che in realtà dovresti fare quanto prima e più spesso possibile e allora andiamo a rimediare ti senti pronto iniziamo mi sono chiesto quale fosse la maniera più semplice per spiegare questo tipo di attacco ovvero il cash poisoning e allora ho immaginato questa situazione pensa di dover andare in un indirizzo che non conosci della tua città e di utilizzare google maps pensa anche che un malintenzionato per derubarti decida di alterare con un trucco il percorso che google maps ti dice di fare in modo da portarti in un vicolo buio dove potrà cercare di rapinarti ebbene il cash poisoning funziona esattamente nella stessa maniera sul nostro computer vengono memorizzati degli itinerari che il nostro pc segue nel momento in cui vogliamo raggiungere un determinato sito ad esempio quello della nostra banca se un malintenzionato tuttavia volesse rubarci le nostre credenziali di accesso potrebbe alterare questo percorso senza che noi ce ne accorgiamo e portarci invece su un sito molto simile dove noi credendo di trovarci sul sito della banca inseriremo ingenuamente e in buona fede le nostre credenziali e lui in questo modo potrà rubarcele e allora come si fa a difendersi da attacchi di questo genere in realtà è molto semplice basta effettuare con una certa regolarità l'operazione che sto per mostrarti per fare questa operazione avremo bisogno di aprire un prompt di ms dos in modalità amministratore per farlo andiamo in basso dove abbiamo la lente di ricerca oppure la barra di ricerca clicchiamoci su e nella barra di ricerca andiamo a digitare cmd facciamo clic con il pulsante destro su questa icona quella relativa al prompt dei comandi e scegliamo la voce esegui come amministratore accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro sistema cliccando sul pulsante sì e nella finestra che si aprirà dovremo digitare semplicemente questa stringa ipconfig spazio slash flash dns a questo punto premiamo il tasto invio e vediamo che in un millisecondo l'operazione è stata completata d'accordo ma che cosa abbiamo appena fatto abbiamo svuotato la cosiddetta cache dei dns dove vengono memorizzati tutti quanti i percorsi che il nostro computer già conosceva quindi il percorso per aprire il sito della nostra banca il percorso per aprire google e così via cancellandoli questi verranno immediatamente ricreati ma sicuramente in maniera corretta dai nostri dns quindi se qualche attacco pregresso aveva alterato qualcuno di questi percorsi siamo andati a cancellarne gli effetti e questo è il motivo per cui questa operazione va fatta con cadenza regolare il mio consiglio è di effettuarla almeno una volta al mese tanto come hai visto è davvero velocissima spero davvero che questo consiglio possa aiutarti a tenerti al sicuro e soprattutto a proteggerti da qualche brutta esperienza come quella del mio cliente e detto questo come sempre non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo video salutarti e darti appuntamento alla prossima